C'è un altro mio amico dei palazzi, che lui è proprio il simbolo delle case popolari, è il simbolo dei palazzi, si chiama Pino, Pino dei Palazzi. Magari l'avrete già sentito da qualche parte. Ma chi è Pino dei Palazzi? Pino dei Palazzi è un balordo delle case popolari. È un tipo, Mimmo, c'è le sigadette? Oh, Madrish, c'è le siga? Mi zegavo, ogni tanto vado in giro con i miei amici, organizziamo delle escursioni. Cioè, delle escursioni con i motorini. Magari, non so, andiamo sul lago di Como, oppure andiamo a trovare qualche nostro amico. Oh, ragazzi, andiamo tutti con i motorini a trovare Bernardo Provenzano? Dai, partiamo! Aspettate però, Mimmo, Frango! Bastardi, mi han staccato la pipetta. Oh, si è ingolfato! Mi sa che si è ingolfato! Minchia, ho fare le pede davanti agli sviri, gli sviri mutio!